Allora coach, gara 1 è andata, non è andata proprio bene, cosa puoi dire? È una partita che avevamo preparato in settimana, molto bene, avevo chiesto ai ragazzi di partire subito forse e di far vedere che Siena ci può stare in questa competizione, una partenza non molto buona, ricordiamo che siamo da inizio anno senza McIntyre, ci manca Zizis, ci manca pure Lavrinovic, siamo senza tutti, comunque credo che al di là di un primo quarto forse non molto positivo, nella ripresa i ragazzi hanno fatto vedere che non ci stavano a perdere, scusate, e che sarà sicuramente una gara 2 equilibrata, come in fondo l'è stata anche la prima gara. Coach, all'intervallo sotto di 40, 9 punti per Siena, di cui 8 di Carraretto. Carraretto è sicuramente il giocatore che incarna maggiormente quello che deve essere lo spirito senese, e questo è Thomas Ress, un altro giocatore che nonostante non abbia moltissimo spazio, dimostra di tenere la maglia e gara 2 è vicina e siamo sicuri che faremo bella figura. Coach, in conclusione, quanto le manca McIntyre? E Terrell era un giocatore che ci dava una grossa mano, Terrell però quest'anno si è fatto male, non lo abbiamo da inizio anno, e speriamo che gara 2 vada meglio senza Terrell, grazie. Allora salutiamo i nostri amici, appuntamento a gara 2.